Il Condotel è una coabitazione, una coesistenza nell'ambito della stessa struttura sia di camere alberghiere che di appartamenti. È uno strumento che noi mettiamo a disposizione degli imprenditori, di chi vorrà investire nella propria struttura alberghiera per riqualificarla e quindi per adeguarla agli standard internazionali. È quindi uno strumento che ci potrà consentire nei prossimi anni di riqualificare una parte importante del patrimonio alberghiero della nostra regione, che in alcune parti ha bisogno di interventi radicali di ristrutturazione, dall'altra di inserire una tipologia ricettiva nuova, innovativa, che incontra il favore del mercato in molti paesi europei che in Italia ancora non è applicata. È importante sottolineare che il Condotel sarà gestito in maniera unitaria dall'albergatore, non è una manovra che favorisce la speculazione edilizia, anzi tutt'altro, è un intervento che favorisce la riqualificazione alberghiera dando la possibilità appunto a chiunque di poter acquistare un appartamento all'interno di un albergo usufruendo dei servizi alberghieri.